Ora proviamo un pochettino a esercitarci con Ghi e Ghe, visto che le abbiamo studiati. Quindi la nostra G simpatica, che parte da qua, perché anche la G, insieme alle altre letterine della quarta famiglia, parte da questo punto. Quindi facciamo la nostra pallina, torniamo al punto di partenza, scendiamo dritti e il nostro nodino. Poi l'H che va nel cielo, scende dritta e la completiamo e poi attacchiamo la E, Ghe. Ora proviamo a scrivere Ghi. Quindi la Ghe, pallina, scende, nodino, l'H in alto, scende dritta, completiamo l'H e poi la puntina della I. Ora possiamo scrivere per esempio qua, que, qui e quo. Proviamo? Allora scriviamo qua, la Q, pallina della Q, torniamo all'inizio, scendiamo dritti, ops, ho sbagliato, cancelliamo. Quindi pallina della Q, scendiamo dritti, stacchiamo la matita, completiamo con la gambetta della Q. Abbiamo detto qua? Adesso attacchiamo la U, le nostre due puntine, stacchiamo di nuovo la matita perché dobbiamo partire da questo punto, perché la A parte da qui. Ecco qua. Proviamo la Q, la Q, scende dritta, stacchiamo la matita, finiamo la Q e attacchiamo subito la U con le due puntine e poi la E. Proviamo qui. Allora, pallina della Q, scendiamo dritti, stacchiamo la matita, gambetta della Q, la U con le due puntine e un'altra puntina per la I. Proviamo qua, qua è difficile, guardate bene, la pallina della Q, scendiamo dritti, gambetta della Q, le due puntine della U, completiamo bene la U, stacchiamo la matita ed ora la O. La O parte da questo punto, quindi vi spostate un pochettino, fate la pallina della O, tornate su e poi la O ha il cappellino in alto, ecco qui. Bene, provatevi a esercitare con queste paroline per tutta la pagina.